Porco il lama Tra l'altro ho appena la partita scorsa sbloccato, guardate un poco, il car 98k oro Questo non per dire, ah che bravo lama, chi si è preparato, ha imparato ad utilizzare il car 98k durante la settimana per portarci un bel video No raga, è che semplicemente sto cercando di fare questo video da due ore Mentre che non sto riuscendo a farlo ho anche sbloccato addirittura questa mimetica Comunque in realtà le due ore le ho provate ieri, perché oggi ho fatto sotto due partite Vai compagno, vai a morire, oh grande, vamo la ganto con il suo granato Oh Cristo, comunque in questo gioco io non ho capito come si fanno i dragshot, giuro Perché mira troppo, si muove troppo velocemente la mira, non c'è più Eccolo qui l'ho visto, vediamo se ne sarà un altro lì Camperino, bene preso, piccolo camperino Qua ci sarà qualcuno sdraiato da qualche parte, invece là è morto, bene l'amo Non c'è più nessuno qua, eccolo eccolo Ok c'è l'altro, c'è l'altro No 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 no, no vabbè ragazzi dai Comunque altra cosa, per chi si è appena connesso, per chi si è appena inscritto al mio canale Dovete sapere che quando porto questa parita qua, una volta a settimana col cecchino Non è un tentativo di fare quad feed, triple feed, noscope Cioè è semplicemente una parita col cecchino Quindi calmatevi, non mi venite a dire ogni volta Ah ma lui è più forte, Ron ha fatto, oddio doppia Ron ha fatto una 2000 feed, triple feed, non so, attraverso i muri Cioè ragazzi no, è una parita semplicissima Portata appunto in live, dove cerchiamo di fare qualcosa di decente Tipo provare a chiamare le streak Cioè niente, è una roba molto semplice che sa fare chiunque ovviamente Quindi vediamo un attimo di calmare i toni nei commenti Perché l'altra volta ho detto cosa Ma dai mi stavo, giuro che questa smirata Forse l'avrei fatto ugualmente ma è perché stavo sistemando la mano sul pad Comunque ragazzi, ricordo codice scontro l'amalagante per comprare gli scaf Comprateli, servono per i jumpshot in questo gioco E cerchiamo anche di capire un attimo come stanno spostando Come sono i nemici, oddio Meno male che me l'hanno ammazzato Quel noscope non sarebbe mai entrato Ma ragazzi commentate un attimo A voi è mai entrato un noscope? Io giuro, ho provato due fucili oro Non mi è mai entrato un noscope con il cecchino Vabbè, vabbè, qua muoio per cercare di farmelo No, pensavo di averlo beccato in testa lì Con gli ultimi due proiettili andiamo a challengiarlo No, i miei compagni che mi sparano Raga, poi mi volta gli alleati scandali Mai una volta che troviamo alleati I decenti! Questo non vale come noscope Era un mezzo, era un mezzo quickscope Però non lo facciamo valere come noscope Ora, guardate un po' Abbiamo contro i livelli Abbiamo con i livellini in squadra Non si capisce questa cosa ragazzi Io non ho mai compagni di squadra Che siano in grado di chiamarmi un UAV Di darmi un supporto tecnico Ogni volta devo giocare con gli scandali Poi qualcuno dice che ci sia Lo skill based matchmaking Il fatto che trovi le partite In base al vostro livello di abilità Come c'era in Advanced Warfare Però io non ne sono sicuro Quindi se qualcuno ha qualche notizia No! Vabbè, questo qui di certo Non è al mio livello di abilità Perché è un morto Questo qui è un morto con un pad in mano Uno scheletro Dentro una tomba Che sta fermo nel Ma come si fa? Io raga Ripeto, sarò io Avrò qualche problema nel comprendere Ma perché uno deve spendere 70 euro Per stare a mirare in un angolo? Non l'ho capito Ciao, chi ci saluta Vi muto un secondo ragazzi Perché Oh, hanno chiamato un Wav I miei alleati ragazzi Hanno chiamato lo Wav Questa roba qui ha dell'incredibile Questo qui ha il pompa Vomito Quindi stiamo attenti A come ce lo usa contro Ecco, adesso arriva da lì No Non l'ho preso Visto i dragshot Raga, sono rotti in questo gioco O sono rotto pure io Oh, ma Oh, i dragshot Raga, devo imparare Non so farlo Non so fare i dragshot È qualcosa Con la mira Io lo noto Poi magari mi sbaglio Vi ripeto che Quando in modalità mirino Non c'è più Lo stesso blocco Che c'erano i vecchi code È molto più rapido Guardate Io su ogni code L'avrei beccato quello Bisogna un attimo capire Per poi fare Le partite più carine Un'altra doppia L'amolaganto Sempre il più pro del mondo Che si gasa per le doppie Su questo gioco Una doppia Per me vale come una tripla Finché non imparo A usare il cecchino Ovviamente Poi le cose Mi auguro cambieranno Perché sennò così È anche noioso Oh, vai Lo Wav Lo Wav Lo Wav a 6 kg Ho preso uno Wav Qua c'è uno Soprime Spero di ucciderlo Con la pistoletta Vediamo un po' Se sto ce la fa Grande amico Ragazzi Gli alleati Fortissimi oggi Madonna L'amolaganto In pre-aim Col cecchino Oh, lanciamo la bomba atom Vediamo un po' Se prendiamo tutte le streak Cristo Ma ce ne sono vicini Questi qua Ok Pensavo di non prenderlo Invece bene Devo fare ancora la sfida No, in realtà L'ho già finita Sapete la sfida settimanale Di fare quel tot Oh Cristo Dio Ho finito ragazzi Vi dicevo La sfida settimanale Di fare quel tot Ma mi sporano dietro Questi qua Io sto attento Mi lancio qua dietro No, è appena nato L'alleato Vi dicevo raga Ho già fatto la sfida Settimanale Di fare quel tot Di kill con Gli esplosivi Però l'ho riattivata Quindi Mi tocca rifarne altre 200 Qua qualcuno ha preso una targhetta Perché l'ho vista Scomparire Però dove sarà mai andato Il nostro amico camperino A uno è qua sotto L'alleato ovviamente Sta a guardarlo 10 kill di fila L'amolaganto No Grande l'amolaganto Più pro del mondo Aspettate che qua Muoio al 100% Facciamo il giro qua Che forse È meglio Mi ha visto Eccolo qui Guardate se arriva lì Eccolo lì Però non era lui Mi sa Ce n'era un altro Eccolo No 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 Ma porco Avevo riconosciuto L'allelmetto Perché l'altro Non ce l'aveva Vediamo un poco Di finire Ma siamo contro 3 Ecco perché sta durando All'infinito Concentriamoci Io non sto prendendo Le targhette Anche se sono Un'uccisione confermata Ovviamente per Cercare di far durare Più questa partita Oh Sto iniziando forse A capire Pian piano Come funziona il tutto Quali sono i tempi Di Di mira Per fare Un quick scope No Però il drag shot Non esce proprio Cioè non si gira bene La mira Non riesco a girare bene La mira Mentre sto Mirando Cioè non è che non riesco a girarla bene È che è semplicemente diversa Da come negli altri code È una questione di abitudine Bisogna usare un po' più il cecchino Vabbè dai Ma quello nelle scale Ogni volta Quella casa È piena di gente Che sta nelle scale Mancano le ultime 3 conferme Vediamo chi riesce a farle I nostri alleati I quick scope Comunque mi sembra I scusate I no scope Mi sembra che vadano fatti Però mirando molto più a sinistra Rispetto a dove si trovano I nemici Un po' come lanciare la palla Nel QG Se voi avete provato A lanciare la palla Nel quartiere generale Vi sarete accorti Che anche lì Cambia questa cosa Comunque vabbè 22 kill Quante morti ho fatto 9 Vai Poteva andare meglio Ci becchiamo anche La stella di bronzo La inviamo a Velox Questa qua Che cose E' una doppia Bruttissima Lercia Comunque raga Ripeto Il formato di questo video qua E' questo Ma partite in live Col cecchino Quindi Se avete vedere roba Incredibile Andate a vedere Pamage, Sprat E Ron magari Che gli fa il video Un poco più elaborato L'altra volta Ha fatto delle kill incredibili In TCT In quel video che ha fatto Forse la settimana scorsa Mi è piaciuto un sacco Quindi ragazzi Per questo video è tutto Sono al terzo prestigio Scusatemi se vi porto Prima il video Col cecchino di oggi E domani Avrete quello del terzo prestigio Perché ovviamente Li ho registrati In maniera inversa Però vi sto portando Così Dato che oggi è giovedì Volevo portarvi Questo episodio Dello Sniper Thursday No neanche cassa Da farvi vedere Mi sa No niente ragazzi Questo video quindi Finisce qua Ci vediamo domani Con il prossimo video Sempre alle 13.30 E non perdete ragazzi Domenica Il video Su Fortnite Per uscito Una parità devastante Ve lo dico già adesso Molto bella Con Gab, Ron E Velox E quindi ragazzi Tutto qua Pol collama a tutti Ci vediamo domani Con il nuovo video Ciao ragazzi Ciao ciao Ron è sexy Pol collama Pol collama a tutti Pol collama a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti